Loredana Bertè ha dovuto chiudere in anticipo il suo tour a causa di problemi di salute. L'artista ha annunciato l'annullamento del concerto a Catania a causa di una forma influenzale e problemi gastrointestinali che l'hanno colpita. Nonostante i suoi sforzi nel tour estivo che l'ha portata in 11 tappe in Italia, le sue condizioni di salute hanno richiesto il suo ritiro prima del gran finale. Loredana Bertè ha spiegato che il tour è stato estenuante, considerando i lunghi viaggi e il caldo, e ha chiesto scusa ai fan per non essere riuscita a concluderlo. Non molto tempo prima, durante un concerto a Palmi, aveva affrontato il tema della violenza sessuale subita da giovane. Nonostante il dispiacere, ha promesso di tornare in autunno con un tour nei teatri.